buon pomeriggio amici siamo a salerno e il tempo non permetteva proprio ma sapevo che usciva pure un po di sole e per questo sono venuto perché ieri la pescata di ieri proprio mi è rimasta tutti hanno preso le seppie tranne me è rimasto un po così e oggi sapevo di questo tempo che usciva un po meno vento più decempo di vento ma poco penso che riesco a scaso ho visto le previsioni tutte apposte ok amici e dopo fette di pane sono fermato al ristorante la che si avevano qualcosa e facevano qualcosa alla fine mi sono fatto fare io due fette di pane un po di prosciutto dentro e va bene così l'acqua ce l'abbiamo il venticello c'è tirati la facciamo un po di scadroccio ma io non mi mangio il pane speriamo magari diamone sì la facciamo un po di scadroccio ma io non mi mangio la facciamo un po di scadroccio ma io non mi mangio la facciamo un po di scadroccio ma io non mi mangio la facciamo un po di scadroccio ma io non mi mangio la facciamo un po di scadroccio ma io non mi mangio la facciamo un po di scadroccio ma io non mi mangio la facciamo un po di scadroccio ma io non mi mangio la facciamo un po di scadroccio ma io non mi mangio la facciamo un po di scadroccio ma io non mi mangio la facciamo un po di scadroccio ma io non mi mangio la facciamo un po di scadroccio ma io non mi mangio la facciamo un po di scadroccio ma io non mi mangio la facciamo un po di scadroccio ma io non mi mangio la facciamo un po di scadroccio ma io non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo Arresta Video. Piove, cazzo, piove. Ecco l'ombrella. Noi ci ripariamo un po' dalla pioggia. E' un po' di nuvole. Piove, cazzo, piove. Piove, cazzo. L'arcobaleno. Guardate. E' facile questa piegata. Fala questa piegata. Dai, seppia, dai. Sta pure l'arcobaleno là. Dai, seppia. Ma com'è che è? Dai. Ecco l'arcobaleno e c'è il sole. Guardate che giornata strana. E' naturale. E' naturale. Tutto naturale. Però basta guardare il tempo prima di uscire. E così per stare sicuri. Chiunque esce in mare. Guarda per bene il tempo. Le previsioni. E soprattutto le sa guardare. Perché bisogna pure saperle guardare. Aspettiamo che qualche seppia mangi. Eccola. 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 Spero che lei non sia sporco. Però se è sporco è buono perché stiamo dove stanno le seppie. Ecco qua ragazzi. Due schizzetti ha fatto. E' scampato già. Non piove più. Ma dovrebbe uscire un po' di celeste. Un po' di sole. E saremo alla grande. Speriamo bene. Sole ragazzi. E' anche una seppia. Sì. L'abbiamo persa. Ho beccato una bella seppia. grandicella. E l'ho persa. Porca zozza. Eccola. Eccola. Vi eccola. Eccola qua. E' grandicella pure. Come mi sono avvicinato. Eccola. come mi sono avvicinato. qui ci sono. Eccola. Come mi sono avvicinato. Come mi sono avvicinato… eccolo qua bella seppia bella seppiotta Eccolo qua Grazie a tutti